Va alla senatrice a vita Liliana Segre il premio Exodus di quest'anno. Liliana Segre, sopravvissuta al campo di sterminio Auschwitz-Birkenau, è una diretta testimone dell'Olocausto e ha dimostrato un profuso impegno nella difesa del valore della memoria storica come antidoto alla violenza e all'indifferenza. Il riconoscimento sarà consegnato il prossimo venerdì, l'11 maggio, alle 16 in Sala Dante. Nell'ottantesimo anno della promulgazione delle leggi razziste da parte del regime fascista era dovuto il fatto di non essere indifferenti di fronte a quello che è successo e a quello che può succedere, quindi contro l'indifferenza per la democrazia, contro la violenza di ogni popolo. Liliana Segre ha accettato questo premio, per noi è un motivo di orgoglio, tutta la città che ha vissuto quelle settimane, quei mesi nel dopoguerra insieme a questi 1014 ebrei sopravvissuti ai Lager che cercavano di rientrare in Palestina e quindi poi nello Stato di Israele. Quindi un segnale molto importante, profondo, un richiamo ai più giovani di non dimenticare, di capire cosa significa il rispetto dell'altro, la non indifferenza rispetto alle violenze che ogni giorno vediamo. Tanti gli eventi che faranno da cornice all'edizione 2018 del premio Exodus, quella di venerdì 11 maggio, sarà infatti una giornata densa di eventi e di incontri. Sì, cominciamo alle 10 del mattina, alla Mediateca regionale, dove presentiamo il film La Spezia Porta di Sion, del gruppo Samuel, un film che racconta gli eventi che hanno caratterizzato la partenza dal molo Pagliari degli ebrei. Poi la presentazione di due libri, il primo sempre alla Mediateca, al mattino, presentato da me e da Marco Ferrari, con l'autore Alberto Cavanna, dal titolo Ma forse un Dio. Al pomeriggio riprendiamo alla Sala Dante, alle 16, sempre con la presentazione di un libro, questa volta è una ricerca invece sul piano storico, dovevamo chiudere un occhio, invece ne abbiamo chiusi due, Paolo Bosso è l'autore che riceverà una menzione speciale del premio Exodus per poi arrivare intrammizzati così, diciamo, dal contributo dei ragazzi del liceo musicale al vero e proprio premio a Liliana Segre. Il libro di Cavanna, ma forse un Dio, che sarà dunque presentato venerdì, parteciperà inoltre al premio Campiello 2018.